Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft E quest'oggi mi trovo all'interno della vita in città Benvenuti nell'episodio 99 So già che cosa starete pensando Kendall, che cosa farai al centesimo episodio della vita in città? Una piccola sorpresa Vi dico soltanto, camperate nel mio canale venerdì Quest'oggi abbiamo una nuova missione da fare Il partenone del caos E devo andare a parlare immediatamente con Steph e Fere Prima di tutto perché ho bisogno di una quantità veramente incredibile e indecente di pietre delle anime E soprattutto perché loro mi cercavano Ho detto Quante volte la devo colpire ancora? Buongiorno Buongiorno, ciao Salve Allora, che volevo... Dove siete? Dove sei? A casa Ma a proposito, ma sapete che voi avete una TNT in casa? L'abbiamo tolta Ne hanno messo un'altra Ma chi è che l'ha messa? Guarda, vieni, ti ci porto io, aspetta E qua, guarda Hai ragione E qua c'è un blocco di terra Ogni tanto che un paio è una cosa in questa casa Va bene Allora, io vi ho chiamati perché avrei bisogno della mia materia prima Di ciò che mi serve Ah Dobbiamo già venderti tutto ciò? Sì Quante ne avete? Un bel po' Un bel po' Fai una cassa, Steph Facciamo una cassa Oppure mettiamole tipo qua No, usiamo questo comodino della cucina Ok Ok, vediamo Le mettiamo tipo tutte così Vai, vai Aspetta che non abbiamo finito Ce ne sono ancora Wow È stata una giornata fortunata Quante sono? 21 Molto bene Devo dire grazie ragazzi Grazie di aver lavorato per me Grazie di aver trovato tutte queste pietrelle anime Saranno molto molto utili Bene Ogni volta deve farlo Ogni volta Ogni volta cerca di non pagare No, più che altro io ho paura di chiedere quanto costeranno Tanti commenti che dicevano Le avete sendute la scorsa volta Blah, blah, blah Perché a quanto pare ti abbiamo fatto uno sconto quasi di uno d'oro Eh sì, vabbè, addirittura Senti, quando vendi Quando vendi le cose in stock Tutte quante insieme Si fa uno sconto È così, no? Ok Volete 100 pozioni della Night Vision? Ve le faccio a 10 d'oro Non rispondo Per me ci sta anche che sia sceso un pochino Perché nella nuova dimensione L'osmeraldo è più facile da trovare Esatto E quindi va bene che ci sia uno sconto Grazie Se facciamo a 15 d'argento Sì Costavano 23, giusto? Sì, costavano 23 Eravamo scesi anche a 20 una volta in un periodo Ok Quindi 15 per 10 sarebbe 1,50 Per 20 potrebbe essere 3 d'oro Te ne scontiamo una Cosa ne pensa? Guarda, ce li avevo già pronti Ce li avevo già pronti È il prezzo che voleva sentirsi dire allora Esatto E sapete quante ne ho adesso? 31 Quanti livelli mancano? 3? Tipo 3 o 4 E porca miseria Se non è una volta buona questa Se non va Se non va Tu avrai il permesso di andare in miniera A piccolare a posto nostro Sì, esatto L'abbiamo già detto Bellissimo Mi piace tantissimo questa idea Aspettate Venite, venite, venite A proposito Vi siete resi conto O forse siete stati voi Non lo so Che abbiamo le nostre case collegate Nell'altro mondo? No Qui Ma perché continuano a succedere cose strane? Non lo so Poco fa sono entrato in casa mia Ho detto Che è sta roba? Chi l'ha fatta? Pensavo l'aveste fatta voi Visto che siete i minatori Ma mi sa che l'ha fatta Marci Cioè c'è un tunnel Che passa sotto casa tua Che collega a casa nostra? Sì È quasi raccapricciante Non l'avremmo fatta noi Sembra di quelle robe da stoiker Esatto Non le ho fatte neanch'io Vi giuro Non è col fobia Non è col fobia Guarda È stato Marci Eh secondo me sì Guarda Ma a che pro? Guarda qua Indovinate dove sbucchieremo adesso Ma è anche tutto costruito per terra poi Sì Secondo me sta facendo Quel progetto di cui mi aveva parlato tempo fa Vuole fare una specie di formicaio Sotto la vita in città Tutto quanto collegato Tipo una specie di metropolitana Eh però Entro in casa e telecollega Sì l'ho scoperto così anch'io Ma non lo sapevo io Ma neanche io Ok Siamo collegati Potrò rubarvi tutto dalle ceste la notte Mentre dormite Molto bene Molto bene Piuttosto Noi abbiamo un'altra cosa da vedere Ok Però io credo che andrà molto male Allora controlla se puoi Mettere pietra preziosa 5 No basta Che sarebbe questo Io li odio i vostri picconi Basta Secondo me ti dirà tu expensive Sono io già pronto un nuovo piccone Eh infatti mi dice tu expensive Oh ma sono 100 episodi che vi faccio picconi Basta Il mio invece secondo te cambia qualcosa No Non cambia niente La stessa cosa Quindi Tieni Guarda che bello Uno Due Tu sei matto Tu stai scherzando Vero Ci sarebbe anche il mio Io non vorrei dire però No ragazzi Siete seri Quanti livelli hai? Per fortuna ne ho molti Ne ho 111 Però Allora si lavora Eh vabbè si lavora Allora Cosa metto per prima? Il nostro invil Parti sempre da pietra preziosa 5 Che è il più importante Che costa 20 livelli Solo questo Solo Solo quello 20 livelli In un piccone nuovo tra l'altro Incredibile Poi direi mending Me l'hai dato? Sì Ecco mending Ok questo costa 3 per fortuna Ok Efficienza Ok poi Poi andando in ordine Secondo me Smelter Unbreaking Unbreaking Sicuro non fortuna? Sì perché fortuna è inutile a noi Ah ok Bene Poi smelter Poi smelter E infine fortuna Esatto E ho la bellezza di 17 livelli Ok Porca miseria Il mio non esce allora 111 Tieni tutto piccone La prossima volta Io devo pure andare a prendere la nederite Eh sì Eh sì Quanto 3 d'oro 3 d'oro Allora fammi vedere Inizia a pensare il prezzo anche per il mio Così ti paghiamo tutto Fai 1 e 5 questo E 1 e 5 il tuo Quindi 3 d'oro Ok Però in totale Dai Vedi che era 3 d'oro Sì Va bene però Tu ti aspettavi 3 d'oro solo il tuo Di la verità Ti ho fatto uno scontone No no 3 d'oro totale Ah sì Ok Sì 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 Era secondo me Io volevo farti pagare 3 d'oro solo il tuo però Abbiamo Ci siamo scappati i soldi per nulla Sì 3 delle anime gratis O meglio Le ho pagate con i miei livelli Livelli che però io posso fare di nuovo tranquillamente grazie ai dungeon e grazie alle missioni Tra l'altro a proposito sono livello avventuriero 74 Quindi tra ben due missioni Sbloccherò una nuova magia Perché se vi ricordate ogni 10 livelli sblocco una magia Ora perché sto andando verso i negozi Perché prima di tutto devo prendere Devo riscuotere cassa Devo prendere tutti i soldi di tutte le cose che hanno comprato negli ultimi episodi Perché non ci vado da un bel po' E dopodiché devo comprare tanto cibo da Mark Per completare l'ultima missione Allora vediamo se hanno comprato Qua Bene Iniziamo alla grande poi No 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 Bene Lapis Ok No Benissimo 75 Benissimo 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 C'è dell'altro per caso che devo vedere E 90 Ok Beh è comunque un signor bottino ragazzi Ho fatto 14 monete d'oro Senza accorgermene Adesso La missione dice Raggiungi il tempio del caos E liberalo dal male Distruggi gli spawner Uccidi tutti i mostri Sconfiggi il boss finale Eh che cos'è questo boss finale Ci penso io Con la mia potentissima aura della spada Ah PS Probabilmente starete pensando Adesso che hai 31 pietre delle anime Dovresti aprirle tutte quante Per vedere se passa a P Lo faremo venerdì Durante l'episodio 100 Ok allora Compriamo Una valanga di cibo Un po' di pancake Che sono i miei preferiti Lo sapete Dai su Direi di averne comprato abbastanza Del resto è soltanto Una missione di grado A Tecnicamente dovrei mangiarmela a colazione Le ultime parole famose Ok Ci abbiamo l'anellino del potere La velenosa La magia E l'armatura dell'imperatore Sono pronto Eccoci qua Partenone del caos Dun 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 Dove sono Wow Che figata Ok come scendo però C'è dell'acqua Mi bu No 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 Aspetta aspetta Che sennò ci schiatto qua E acqua Siamo sicuri che c'è acqua no? Si E spluff Ok Ok allora Devo cercare di fare una speedrun Devo essere estremamente veloce A rompere tutti quanti gli spawner E ammazzare tutti i mostri Quindi 3 2 1 E muori Mamma mia Troppo easy per me Mamma mia ragazzi Me li mangio a colazione Ok cerchiamo di non sottovalutarli però Cerchiamo di non sottovalutarli Fermo Perché mi danno questi effetti strani Ok devo fare attenzione Perché alcuni di loro hanno reflective Come incantesimo Aspetta un attimo Ma Sciogliamo questi E Aia Oh Pure qua vi trovo Dov'è il piccone? Non ho un piccone Com'è possibile che io non abbia un piccone? No 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 Mi sei rotto? Non ci credo ragazzi Non ho il piccone Me lo devo craftare Per forza Oddio Se no non posso finire la missione Dai 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 muoviti Un piccone qualsiasi dovrebbe andar bene Oh ci sto morendo Per colpa di una stupida strega Sto per craftare un piccone nella vita in città Sì lo so Tecnicamente dovrebbero farlo steffere Ma non ci sono Sono usciti Credo che sia il primo piccone che crafto Ok dite che in legno va comunque bene Spero di sì Oh che batoste Mi stavano uccidendo Ma come fa ad essere una missione di grado A? Allora il pane non mi serve Mettiamo qua Mettiamo le mele d'oro Che è meglio E adesso E adesso Entriamo Oh Totterotto Totterotto Muori Rompi il piccone Rompi 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 Veloce più veloce Ok rotto Boom 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 Ripeto Ai che cavolo Ripeto Devo fare attenzione Ai mostri con reflective Perché poco fa ne ho visto alcuni E pensare che un tempo faticavo tantissimo A fare le missioni di grado A Dai Non ci credo Ma hanno dato fatica del minatore Non è possibile Ok eliminiamo tutti questi Appena finisce l'effetto Posso Tornare a rompere Gli spawner Ok tre secondi Veloce 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 Mori 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 Dai maledizione Nasconditi dietro la colonna Dai 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 Ecco perché è una missione di grado A Nonostante i mostri siano abbastanza facili da uccidere Perché è complicatissimo rompere gli spawner Aia che male Che male E quanti libri hanno droppato Ok c'è di buono che sto facendo veramente una vagonata di livelli Dai 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 Bene Via anche questo Via anche questo Via anche questo Su 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 No mi hanno ridato fatica del minatore Maledizione Guarda quanti libri Dai dai veloce veloce Prima che spuntino di nuovo Sono queste palline blu che se mi colpiscono mi danno fatica del minatore Ecco visto Dai Ok La mettiamo subito qua Aura della spada Mori Oh siete tutti quanti paralizzati adesso eh E mentre voi siete paralizzati e non mi potete attaccare Io rompo gli spawner Si chiama astuzia Cervello ecco come si chiama Per chi non lo sapesse Se i mostri hanno l'incantissimo riflesso e io utilizzo aura della spada per ucciderli Tutto il danno che gli faccio lo subisco io Quindi se tolgo 50 cuori io mi auto tolgo 50 cuori fino a rischiare di morire Quindi devo fare molta attenzione con loro Ma io mi sono appena accorto che là c'è una TNT Ok non importa rompi 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 Bene benissimo benissimo Non ci sono più spawner? Ho trovato infinita No vabbè c'è ma Tutti sti libri Sharpness 4 Ma ragazzi sto trovando troppi libri OP E' qua sotto il boss? Muori Muori Oh mio dio Che è una festa? Salve Qualcuno mi ha invitato Ci penso io Sono troppo forte Sono troppo forte Sono troppo forte Rompi 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 Veloce 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 Ok Ho schivato l'incantesimo Mangiamo una mela d'oro E si torna No tu muori No 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 Ok rompiamo 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 Qua non mi dovrebbero vedere No ma sono troppi libri Sono troppi libri Ci saranno sicuramente dei libri OP che non sto neanche vedendo Ok prossima stanza Anellino del potere E si va E si va Senza alcuna paura Sapete quanti ne ho uccisi di voi stupidi blades Bene Aura della spada Ora sono più potente di sempre Spacca Su Grande Non importa se ti colpisce Continua a rompere Grande Uff Adesso posso respirare un po' Allora Tutti questi libri li controlleremo dopo E' qua dentro il boss? Oh Perché c'è una stanza piena di TNT? No Se tu l'accendi Succede un casino Non l'ha accesa vero? Ok no Ma c'è vuoi fregarmi veramente? C'è ma credi veramente di potermi fregare con una cessa trappola? Ma per piacere Oh Grazie Quasi così farei esplodere tutto Ma forse è meglio di no Prima cerchiamo di prendere tutti questi libri Tutto quello che potrebbe servirmi Lo voglio Questo non mi serve Questo si Questo no Due protezioni totale Bene Via 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 Questi li mettiamo qua Ehi E tu da dove esci fuori? Ma aspettate Nella missione c'è scritto Sconfiggi il boss finale E anche lì c'è scritto Sconfiggi il boss Mi stai forse dicendo che Devo attivare questa TNT? Ok Cosa sto facendo? Wow 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 Ma È vuota A parte due ceste Ok Oh 27 monete d'argento Le prendo molto volentieri Grazie mille Ah ci sono le teste No Ho capito Ho capito cosa devo fare Il boss sarebbe il Wither Ma me lo mangio a colazione Me lo mangio a colazione il Wither Credo Spero Sì dai dovrei Dovrei Via sto piccone Riprendiamo le teste Ok Risaliamo Devo veramente battere il Wither Vabbè Dovrei Farcela Sicuramente dovrei farcela Siete pronti? Uno Due Tre Ciao Wither Uh mi dà anche l'avanzamento Ok Pronti? Aura della spada E Prendi questo Mamma mia che botte che gli do Non ci credo Non ci posso credere Cos'è che mi ha truppato? Incrementa la vita massima di un cuore Uh E qui io ho distrutto tutto Beh direi che ne è valsa la pena Quindi se io uso questo No vabbè c'ho un cuore in più Wow C'ho 15 cuori Sta missione è stata una figata Siete pronti? 3 2 1 Voilà Missione completata Ben 50 monete d'argento E livello avventuriero 78 Come vi dicevo Appena arriverò all'80 Sbloccheremo una nuova magia E Adesso io dovrei ritornare a casa Però La Waston è lassù Porca miseria Se cado e muoio Sarebbe il colmo Beh questa missione è stata divertente Ma anche abbastanza facile Le missioni di grado A Sono diventate veramente uno scherzo E pensare che un tempo Faticavo tantissimo E beh ovviamente adesso sono abituato Ai dungeon E alle missioni di grado S Però ne vale ancora la pena farle Per farmare Sì lo so Ho lasciato 50.000 libri dietro Ma tanto ragazzi Non sono più importanti Ormai siamo tutti quanti Praticamente incantati al massimo Tranne Carly e Xiao Io faccio veramente troppi livelli Cioè posso creare qualsiasi cosa voglio Semplicemente con il tavolo degli incantesimi Quindi non è importante avere i libri Che ti droppano i mostri Bene Direi che è andata alla grandissima Ricordatevi che venerdì Ci sarà l'evento speciale Del centesimo episodio della vita in città E credo che alcuni di voi Abbiano già capito di che cosa si tratta Mamma mia Non vedo l'ora di aprire tutte queste pietre delle anime Non vedo l'ora Ma il vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao Ciao